Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il regista Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1969, La Notte dei Serpenti. Hernandez, comandante di una guarnigione in un piccolo villaggio, si unisce ad un gruppo di cittadini per derubare l'orfano Manuel della sua eredità. Luke, affetto da un passato traumatico e ora alcolizzato, viene scelto dalla rivoluzionaria pancio come pedina dei suoi uomini, il mio voto a questo film è 7, l'ho voto a questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, è di genere western, la durata è 1 ora e 48 minuti, il regista è Giulio Petroni, la regia è buona, bravo regista, paese di produzione Italia, l'attore è Luke Askev, bravo attore, nel film anche Luigi Pistilli, Cielo Alonso, Guglielmo Spolettini, Benito Stefanelli, Magda Konopka, Franco Balducci, Franco Valor, Monica Miguel, William Bogert, Clara Closimo, Giancarlo Badessi, Bruno Boschetti, Paola Natale Saluto Anna, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.